Soprattutto per quanto riguarda i giovani, quanto è importante un impianto come questo e quanto è importante poi per alcune persone del posto avvicinarsi soprattutto a queste tematiche, quindi quelle giovanili e quelle legate al mondo dello sport? Beh è una tematica molto importante e anche complicata, magari si sente meno nel luogo piccolo come è qua perché i ragazzi possono giocare liberamente per le strade e direi che sono già di per sé motoriamente molto abili rispetto ai ragazzini, io vivo a Roma e i ragazzini di Roma non hanno spazio per giocare, non è che salgono su un albero, c'è che motoriamente sono già indietro rispetto. Qua e poi ho l'invito a esprimere questa capacità motoria applicandola al calcio perché questo è un campo di calcio e si ritrovando, si giocando, le parole per la verità non si possono insegnare, io faccio l'insegnante, mi chiamano pure maestro, però in realtà io posso tutto al più accorciare il tempo di apprendimento. Se qualcuno gli dà l'impulso anche di far imparare prima un ragazzo che è già valido motoriamente come di solito lo sono nei centri piccoli come qua, sicuramente verrà qualche ragazzo che poi darà soddisfazione anche ai suoi paesani di aver giocato a certo livello. Sarebbe importante e forse perfetto pure abbinare un buon settore giovanile a questo impianto sportivo e soprattutto poi alla fine avere degli osservatori che vengono a vedere campioni cilentani piccolissimi che magari a volte sono tra virgolette bistrattati per quando riguarda il calcio soprattutto campano ma poi anche a livello nazionale. Certamente, sì, avendo un istruttore del genere diciamo che già il 50% siamo a buon punto, poi bisogna avere validi istruttori che sono un'altra cosa molto importante perché se ci sono i giovani ma non ci sono gli istruttori adeguati, preparati per far crescere. E' come andare a scuola, se i professori non sono bravi difficilmente i ragazzi possono eccellere quindi c'è bisogno di... però ce ne sono in giro perché adesso in Italia stiamo migliorando molto sotto questo punto di vista. stiamo cominciando a capire che bisogna cambiare un po' la mentalità, adeguarsi un po' anche a altre nazioni tipo la Spagna, tipo la Germania, l'Inghilterra che stanno facendo un ottimo lavoro da più di dieci anni perché stanno pensando più sotto l'aspetto tecnico che quello fisico anche se è importante anche l'aspetto fisico però credo che l'aspetto fisico senza le basi tecniche non potete da nessuna parte quindi stiamo migliorando e quindi penso che con istruttori capaci i ragazzi possono divertirsi e possono imparare tanto. Ma vedi noi in giù abbiamo come dicevo prima poche strutture e quando si hanno poche strutture girano meno osservatori quindi ci sono meno segnalazioni per i club professionistici e quindi questo fa parte purtroppo nel sud è un grosso problema perché tante società del nord attingono da noi al sud quindi già vediamo come posso dire il Napoli il Napoli non arriva sulla prima scelta perché? Perché c'è la Juventus, c'è l'Inter, c'è il Milan dove investono fior fiore di euro per gli osservatori che sono poi alla fine la fonte migliore per arrivare ai piccoli campioni.